Curiosamente Freud ebbe tre problemi di scissione nei confronti delle sue teorie, del suo pensiero, di carattere decennale. Nel XIII la notte scissione di Jung, dove principalmente veniva contestato da parte dello psicologo svizzero la teoria generale della libido di Freud e la centralità del complesso edipico. Nel XIII, dieci anni dopo, con Otto Rank, che mise in questione la centralità del complesso edipico per dare molta importanza invece al trauma della nascita, di cui si era occupato anche Freud, peraltro. E nel XIII, Wilhelm Reich, con la sua nuova teoria che emerge in particolare, in maniera più compiuta, nel suo libro La rivoluzione sessuale. Ecco però, devo dire questo, che in Wilhelm Reich rimane un collegamento con Freud che è basato su dare risalto all'importanza del concetto della libido, la quale però viene inserita in una visione più ampia, che apre un altro scenario, uno scenario che non diventa soltanto psichico, ma diventa cosmologico. Di fatto Reich sostiene, e questo sarà ripreso da Marcuse, che l'uomo vive in un mondo, in un cosmo che è costituito da una bioenergia, viene attraversato da questa bioenergia che fornisce all'uomo tutte le sue possibilità di azione, pensiera, eccetera, e che l'uomo traduce poi nelle sue varie attività. Fondamentalmente però Reich mette al centro di questa energia che l'uomo riceve da questa sfera cosmologica la sessualità. E questo fa sì che lui arrivi che lui arrivi a sostenere che questa situazione viene turbata fondamentalmente dall'evolversi di una società depressiva. Questo ricorda molto la ripresa di Marcuse molti anni dopo. Ora, il problema però è questo, che quando Reich parla di questo tipo di repressione, apre uno scenario che ha a che fare con una visione di tipo, chiamiamolo politico-sociologico. In particolare, che cerca di coniugare la concezione marxista con la psicoanalisi. Ora però c'è un piccolo particolare, che se noi guardiamo qual è la concezione della biofisica e della bioenergetica, per essere più esatti, che è tutto sommato una concezione naturalistica. L'uomo c'entra poco tutto sommato, viene investito e traduce questo. Con la scelta che Reich fa della concezione marxista, di fatto ci accorgiamo che lui fa preciso riferimento al diamante, cioè al materialismo dialettico di Engels, che per certi storici, per certi critici e per me stesso, invece c'è un bellissimo saggio di Schmitt, che è uno della scuola di Adorno, ma che se ne distacca, dove dimostra come, mentre nella posizione di Marx sono basate su una visione di rapporti sociali, di relazioni umane e via discorrendo, nella visione di Engels c'è sotto un po' una metafisica materialistica che dà luogo al tipo di evoluzione. Ecco, Reich si rifà più propriamente, non so se consapevolmente o no, alla condizione di Engels invece che quella di Marx. È chiaro che Freud reagì a questo dicendo che Reich era un po' un po' matto, insomma, no? Freud lo disse di tanti che erano mesi matti, insomma, sia ben chiaro, no? A partire da lì fino a tanti altri autori, compresi di quelli che si occupavano di psicoanalisi. Però c'è un fatto che dà importanza alla corazza che sarebbe una modalità difensiva nei confronti di questo tipo di spinta energetica, per ragioni di difesa. Ora, la corazza esiste come punto di riferimento possibile, viene chiamata seconda pelle, viene chiamata fortezza vuota, viene chiamata in vario modo, però oggigiorno ha una grande importanza perché dà luogo allo studio e anche alla pratica clinica in ambito terapeutico per andare a toccare quelle difese molto primitive, no? Che ostacolano poi l'evoluzione verso l'edippo o comunque verso gli stati maturi del soggetto. Quindi è una specie di chiusura psichica che di fronte a delle traversie molto precoci il bambino mette in atto per creare una sorta di allucinatoria, allucinatoria, un allucinatorio ambiente che vorrebbe replicare quello della chiesa endotterina. Quindi la corazza è questa e Reich lo collega poi anche a quella che lui definisce il carattere e poi fa tutta l'analisi dei caratteri, ma questo ci porterebbe lontano. Grazie. 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 Grazie.